Palesemente la miglior leggenda sotto tanti punti di vista. Oggi ragazzi usiamo l'Oba e credetici o meno è la mia seconda leggenda per numero di kill. Ancora oggi non mi capacito di come sia possibile, ma è la verità. 2138 uccisioni, ben lontani da quelle che ho con Octane che sono più di 30.000. Però ecco, era solo per farvi capire che l'Oba mi piace l'ho sempre utilizzata abbastanza, soprattutto ora che hanno migliorato la sua abilità tattica. Quindi fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, se l'avete riprovata dopo l'inizio della season 9, ora che l'hanno cambiata, mi piace il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, fatemi sapere anche quale altra leggenda vorreste vedere e buona visione. Draco, sai che sei denunciabile? Diffondi informazioni private pubblicamente senza il mio consenso. Io non volevo si sapesse. È il mio nome. Se solo avesse Telegram adesso risponderebbe con la sua gif della scimmia. Sì, 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 esatto, la sua rappresentazione. Ah, ma questi sono i lisio, però ce li avevamo dietro pure andando agli altri. Sì. Ma ce li avevamo qua. Vabbè. Sti cazzo. Mi ha spottato da solo. Anche a me. Non mi fa fare l'esecution. Grazie Winfresh per la sub. Benveniù. Ho fatto più esecution in tre partite con l'oba che... Sì. Non ce l'ha il tuo self? No. A meno che non ce l'abbiano. Mezzo secondo prima che... Uff. Sì, sì. Vabbè che poi io avevo lo suopo viola quindi non mi serviva niente, però... Era tanto per farla. È il momento perfetto per fare shopping. Ma che, qual è il pronostico? Non lo so. Dracor l'ha fatto. Che avrò più bagni a fine partite. 30% io, 72%. In base a cosa? Vabbè. Che armi hai tu? Io non ho armi da farmone. Carabina spitti. Vabbè, che schifoso. Cheat. Ma vedi quanto... Solo la spitti, Usio. Solo la spitti. Poi dicevi a me. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Minchia. Minchia. Oh, è 3-4 giorni che... È 3-4 giorni. No, no, no. Che è la prima volta. È una volta serata. No, no, no. Che è una volta serata. Sì, sì. Siamo fuori dall'anello e la morte... Ma proprio mai. Ma sì. Uh, Dragor che scrive Seba è più forte e vincere a me. Dragor, tu con me non ci giochi più, allora. Gioca con Seba, visto che lui è forte e ti carri... Ti carri a lui. Ti carri a lui. Fatti carriare da lui, suca. Che ferma l'altro. Io ho l'indole più da farmone, l'ho detto. Solo che adesso, guarda, manco arrivo i fight. Perché tu voli. Prendi il bazzo. Azza. Non posso manco scendere. Un t-dentro... Qua, 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 qua. Un t-dentro. Io c'ho il soffrasso. E non te lo fai? C'è uno che sta nel pesante. Io direi che non c'era il t-dentro. Ma che cosa vincerò? Non ho fatto tanti danni. Quanti ne hai? Pocchi? No, 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 non ce li possiamo dire. No, tu non... No, 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 dai, no. Ma facciamo legit. Non possiamo guardare i nostri danni a vicenda. Non si vede nulla. No, ti giuro, non ho fatto tanto. Cioè, mi son beccato... Qua tutti i one-shot erano. Eh no, io invece era porto danni... E qua davanti, eh, qua davanti. Uno è viola. Ma sopra o sopra? Sopra, sopra. No, alla rampa, alla rampa in mezzo. Era sul rubetto d'acqua. A terra uno. Abbiamo eliminato tutta la squadra. Dai, hai vinto. Può dirgli quanti danni hai. Ma no, non ho vinto. Ma che cosa... Ma me lo so beccato one-shot. Stai scherzando? Ma vedi... Ma fai adesso i miei danni. Non ne ho, non ne ho. Ma che volti manco io? No, no, dai. Cioè... A parte che noi non dobbiamo giocare per la bet. Dobbiamo giocare per vincere. Poi la bet è una cosa della chat. Non è... Non è che sono io che vinco. È chi scommette su di me che vince. Ma non hai vinto tu. Non è una cosa che vinci tu. Vabbè, hanno vinto puntando su... Ecco, capivo. Ma non è un... Cioè... Stanno academiciando, forse. Io manco ci sono. Hai già vinto tu. Hai già vinto tu. Ma io manco ci sono. Vabbè, vabbè. Puoi dirlo quanti ne hai, eh. Puoi dirlo. Eh, sì, sì. Puoi dirlo, puoi dirlo. Ma c'è ancora gente là? A senzo. C'è altra gente? No, fine. No. 100-100? 100-100, due di insomma. Ok. Però mi sembrava di aver sentito sparare. Forse erano più verso dietro. Voli? Vieni verso di me allora. Dai, aspetta, aspetta. Vieni verso di me. Voglio andare qua. Ma che è finita? Mancano i team ancora. Mancano team ancora. Massima allerta, valpi rimpostazione, pronta al lancio. Tutto pronto al lancio. Ma no, dai. No, no, no. Dai, però. Non posso volare, perché devo forzare a passare da dietro. Vabbè, non vale però così. Ti ho detto pure che venivo io a volare. Ma che vuol dire? Ma noi dobbiamo giocare per vincere, no? Per fare i danni. Ma se vince, ma qual è il problema? Quante volte ho fatto di uno di due? Ma non... No, non ho danni. Non ho danni. Ma neanche io. Madonna, madonna. Neanche io ho danni. No, non aprirla. Ma ti giuro, neanche io ne ho. Cioè... Ma ne hai più di me, palese. Dai, c'ha mille danni, dai. C'ha mille danni. Allora ho vinto. No, non l'ho detto. Se hai mille danni hai vinto palese. Ma che cazzo vuol dire? Se hai mille danni, dragor, paga la betta. Ma che faccia di scherzo? Che super pagliaccio. Che super clown. Ma che cazzo? Sono sotto la mano. Proprio nella casa? Non lì. Nemico individuo. Stanno sparando. Fuori uno, nemico a terra. Ho bisogno d'aiuto. Che clown questo, ospite. Dai a farmare i danni. No, no. No, no, no. Non è vero. Non è vero. Io stavo quasi dicendo, stavo quasi dicendo. Aspettiamo che questo qua si curi. Però poi avevo paura di confermasse, quindi non ho aspettato. Arrivano. Arrivano. Sono arrivati, sono arrivati uno da te. a gara a betta. A gara a betta. Sono tirato le traia. Da meno uno che stanno a fare. A gara a betta. Ma che Sai che Forse hai vinto tu Non ironicamente No però No però ho fatto 200 full all'octane No no all'octane ho fatto 200 full Però non ne ho tanti di più Cioè se ne ho di più non ne ho tanti di più Le kill sono di più 10 Grazie moto Non è vero io sono guarito Non uso spettire un bel po' Cioè prendo il flatline di solito adesso Misra C'è qualche d'uno Giusto qualche d'uno Sono andati tutti all'inno No mi sa che c'erano le esche allora No le esche non vengono spettate Ah cazzo Ma perché c'era un bel po' di gente che andava dritta all'inizio Bizzarro Grazie Qua davanti dentro Uno è blu C'è anche la bike però No non ha senso Ok godo C'era la brake mi pare No Ma ho ucciso lui con la granata Devo fare il phoenix Anzi no mi suoppo lui blu Che sfiga Godo flatline Pesantemente c'era un arco con Il tempo Qua sotto Non prendi No gli rendo in faccia Aiuto Era lui sempre Lo sento curarsi Ma hai fatto il compagno suo? Che hai fatto? Dove minchia è? Qua dentro forse E hai volato con l'ultimate Si Ma che cazzo Ok Ma questo tipo è molto dracoresco devo dire Da parte della Vraith Molto molto dracoresco Mi sa che mi piglio il G7 con il 3x Minchia Quest'arco chi è? Boh Qualcuno Il compagno del tuo è là sempre Ci sta quello con l'arco Sto facendo il phoenix C'è quello con l'arco che mi ha rotto i coglioni tantissimo Si gode Grazie Davide per la sub Si gode Facco il G7 mi piglio io l'arco Ho capito Se no non ce la posso fare A resistere Che non prenderò Ok dentro Uno lagga tantissimo tantissimo Ma uno arriva da me Da qua È salito un team One shot operate One shot l'altro oppure Entrambi one da me Da me entrambi one shot Ho preso uno Non so che fine abbia fatto il primo però Eh non lo so Era andato dentro la casa Insieme al locked in E sale lui Sale lui Save rate è lui Si era lui Top Top Quelli sotto non li abbiamo uccise ancora Entrambi? Si Yes Quindi possiamo Darcela Vai Anfinito Finuto Crack il Gibo Fammi fare l'esecution Dovresti sorridere un po' di più Li sento vicino a me Vicino a me Minchia Uno colpitissimo Una settantina Viola anche di più Ush Che leader stilato Abbiamo le stesse kill Lo so Eppure prima te lo sei stilato con le stesse kill 2248 Quindi Last one con lobo adesso So